salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video sto registrando di seguito l'episodio scorso quindi se avete lasciato qualche consiglio o altro non l'ho ancora letto quindi abbiate pazienza allora proseguiamo quindi la nostra esplorazione ci siamo lasciati qui in questo diciamo edificio che dovrebbe essere appunto edificio amministrativo e direi di proseguire siamo in questa cittadina abbastanza tranquilla insomma per il momento non abbiamo trovato a parte i zombie nessun altro a romperci le scatole magari vediamo che scende direttamente dal barcone giusto per farsi un attimo male e quindi continuiamo la nostra esplorazione pensavo fosse un ospedale o altro un ospedale o altro invece no era qualcosa di amministrativo appunto comune o roba del genere insomma e quindi continuiamo la nostra esplorazione abbiamo visto la parte iniziale insomma di questa di questa cittadina che sembra promettano anche bene che comunque non mi sembra che sia stata insomma i corpi pittura di odio questo eventualmente per disinfettare le bende ma ce l'ho tutte disinfettate quindi va bene pure così insomma giro comunque non mi sembra che sia stata depredata da qui a poco insomma anche abbastanza a nord non tantissima ma insomma siamo ancora oltre la oltre l'aeroporto classico dove siamo sempre arrivati quindi non so quanti si diciamo allungano fino fino a questa zona o se sono ancora lontano diciamo dai punti più caldi della mappa non è che ci tengo vado ad arrivarci tendiamoci assolutamente però forse una mappa così così vasta per solo per 32 persone al senso sono un po poche sicuramente sa per quelli non ufficiali avranno un numero più alto a parità di mappa diciamo di forse di partecipanti non so se c'è la possibilità di mettere un numero un po' diciamo libero di partecipanti però poi c'è veramente la folla di gente però questo è un caricatore pantaloni cr75 vabbè lasciamo qua dove si inizia a mappi a tutto in verità regà oh una bella mappa quella ci serve vediamo un po' come la situazione qua parti di zombetti un altro sta là un altro sta là giù ok la mese che c'è la stazione della polizia la polizia c'aveva quella sorta di cupoletta eh sì quello è un poliziotto questo qua è un poliziotto ok ottimo così magari troviamo qualche cosa una giacca diversa rispetto al piumone che ci siamo presi provvisoriamente sì non è male allora vediamo un attimino quindi stiamo qui in centro città non ho mai visto ma non ci ho fatto così ovviamente una una fontanella allora questi sono i vari percorsi percorso rosso noi siamo qua è bene che siamo proprio così lontani cioè così poco a nord diciamo rispetto all'aeroporto ora o proseguiamo tutto sulla sinistra oppure se andiamo ancora più a nord secondo appunto il sentiero sentiero rosso però non rimaniamo troppo così in vista il sentiero rosso qua dice che è a destra ci dovrebbe portare alla città di eh non riesco manca a leggere però insomma dovremmo imboccare il sentiero rosso allora famo un asalto al alla stazione qua di pulizia e intanto non ci siamo arrivati che cazzo mi ha cecchinato parca puttana non l'ho manco vista eh dannazione ah beh finisce così la nostra avventura non è così però una rottura di schiatole dannazione però ci sta ci sta alla fine sei preda e sei cacciatore in questo caso siamo stati siamo stati preda va bene dai un piccolo riassunto prima di di respawnare ovviamente non è stata una buona buona run forse ci ha detto fortuna nella parte iniziale che comunque abbiamo imboccato subito la strada giusta ricordandomi insomma i vari sentieri quindi poi ricordandomi le varie zone che avevo già già passato e cioè per assoluto potrebbe averci ammazzato pure una pistoletta mi sembrava molto vicino il colpo eh magari stava dietro e non l'ho visto stava dietro un angolo non lo so era comunque un colpo silenziato perché ho sentito solo il rumore appunto di un colpo eh partito insomma da un'arma con il silenziatore quindi non era niente di così corpo in testa il shot e tutti a casa malgrado avessimo il l'elmetto e quant'altro ci sono alcune meccaniche ripeto ovviamente magari era il fucile più forte del gioco i pallotti le lunghe 60 centimetri e non c'è il metto che tenga però alcune volte è veramente molto eh brutale passatemi il termine questo questo gioco mh non ho se immaginare per chi magari lo lo vive diciamo come appunto un un survival quindi si mette anche a fare la a fare la base eccetera perché comunque magari stai facendo la base da una parte hai trovato quello che ti serve stai per tornare là ti ammazzano e hai perso lì si fa parte del gioco non è una lamentela però insomma secondo me a lungo andare diventa diventa frustrante andrebbe secondo me interpretato più come una sorta di mega deathmatch ok almeno che non sei in un server in cui si forza il pwe e quindi il pvp diciamo viene viene bandito ma anche lì allunga annoia perlomeno a me ovviamente non siamo tutti tutti uguali è un genere di titolo affascinante per quanto riguarda le varie meccaniche insomma molto molto survival appunto quindi meccaniche che si avvicinano alla alla realtà troppo troppo diciamo secco nel momento in cui ti ti sparano c'è comunque un un conflitto a fuoco in questo caso ripeto un colpo e sono sono morto ripeto sicuramente headshot quindi tutti tutti a casa però insomma come si dice il rovescio della medaglia ovviamente meccaniche belle survival anche sicuramente la parte del crafting insomma bella bella profonda visto tutto quello che serve per effettivamente tirarsi magari una palizzata o un cancello per la nostra base tutto poi può finire in pochissimi istanti nel momento in cui poi trovi quello che ti ammazza e è a posto così a parte che magari ho sbagliato io l'approccio magari un po' troppo così alle grotto in mezzo so stare forse troppo tempo in mezzo ma avevano forse già visto già sentito questo non lo so poi ovviamente in una città così con tutte le possibili angolazioni aperte le finestre dei palazzi e quant'altro poi ma anche se ti avessero sparato mi avessero sparato un corpo e magari mi ferivano ma non vedevo effettivamente dove era partito il colpo difficile cercare di risalire a chi aveva sparato dove aveva sparato poi ovviamente sembra lì degli eventi o scappi o magari poi inizi a capire sempre se riesci a capire chi ti ha sparato e eventualmente diciamo a contraattaccare però ripeto è stata comunque una buona una buona run secondo me se non ricordo male è quella più lunga anche da questo punto di vista anche se alcune volte traccheggiamo un po' più nelle zone iniziali perché magari appunto non siamo fortunati a trovare subito delle armi che ci permettono di allontanarci dalla dalla città magari non troviamo subito del cibo da bere quindi dipende come va la situazione insomma come si riesce a trovare subito le prime cose che occorrono per allontanarsi dalla zona diciamo iniziale e spostarsi più verso il centro ora ricominciamo ovviamente io non ho intenzione ragazzi sinceramente di portarlo da qui a sempre abbiamo fatto già tanti episodi mi dispiace per chi per chi mi segue per chi non vede altro e non aspetta altro che esca un titolo un video di Dezzi però sono titoli che a me allunga sinceramente stancano perché non mi metto non mi metto a fare la base perché giocandolo mi rendo conto che sia inutile sostanzialmente inutile perché anche se la fai al centro della mappa una volta che rinasci sulla costa ci devi ritornare al centro della mappa sempre che nessuno te la trovi che non te la distruggiano che non ti fregano tutto quello che c'è all'interno quindi non è proprio il top secondo me la base è utile se si gioca in gruppo e io ho un approccio più da solista diciamo quindi secondo me non ha senso preferirei vivere ogni ogni personaggio ha senso ma quando si muore pazienza e se ricomincia eventualmente però ripeto non ho intenzione di portarlo alla lunga alla fine il gioco l'abbiamo vista anche perché non c'è un endgame potresti eventualmente diciamo darti come obiettivo l'esplorazione della mappa ma l'abbiamo vista alla fine la mappa quella è insomma non ci sono posti diciamo dice c'è quel post ammazza figo andiamoci ma è sempre sempre quella come vi avevo detto poi durante i gameplay secondo me è anche un po' troppo grande rispetto al numero di persone che ci sono all'interno perché o trovi le parti iniziali in cui si sparano quindi cioè se cerchi un po' di azione diciamo che la devi trovare nei punti un po' più importanti oppure come ci ha detto a noi adesso trovi il solista il solitario come siamo stati tuoi fino a che che sta lì te vedete te spara ora avrà preso un boato di roba perché avevamo un bel po' di roba noi da da parte quindi insomma come bottino comunque non era male oppure era talmente pieno già anche lui che insomma la roba che avevamo per lui era assolutamente nulla di che comunque filiamo il monologo ripeto ci rigeneriamo personalizzato questo è il personaggio allora ci siamo ci siamo solita pera questo lo buttiamo e questo ce lo teniamo e allora dove siamo dove siamo arrivati qua ci stanno le barche e qua dove caspita stiamo eh ma va a ricordare stiamo per là c'è qualche cosa là pure quindi dovete andare di qua inizia nuovamente la nostra la nostra espressione ripeto ora va bene se ci ammazzano subito basta ok però dovessimo durare un po' di più diciamo che possiamo poi alle lunghe anche un po' fermarci o far uscire magari dei anche questi già si sparano dei video un po' più distanti anche se vabbè ora il periodo estivo ovviamente ragazzi diciamo la programmazione è abbastanza rallentata per il caldo e insomma voglio ovviamente mollare un pochettino la presa anch'io però tendenzialmente poi da settembre in poi comunque escono anche altri titoli ho anche un'altra rubrica che voglio portarvi mi porterà via un po' di tempo quindi i giorni alla fine sono quelli le ore che posso dedicare sono sempre quelle quindi devo cercare poi di fare diciamo una selezione quindi abbiate pazienza se poi rallenteranno i video di Dezio se piano piano lo andrò ad abbandonare mi spiace poi per chi magari lascerà il canale perché il giochetto preferito non verrà non verrà più portato però ripeto devo fare una scelta c'è poco da fare io non portando un solo titolo devo ripeto fare una scelta poi nel momento in cui escono i nuovi allora io non so cosa potremmo trovarci adesso come come roba perché insomma avete già visto più che altro sentito dei spari questa possiamo provare a sciacquà servirebbe perlomeno un'arma bianca dannazione oppure se siamo fortunati becchiamo uno lo confiamo di botte almeno che non è armato e se siamo fortunati riusciamo pure a sopravvivere oh non so se sono due play o due zombie quelli no credo fossero dei player perché si muovono troppo veloci e credo fossero anche in coppia a meno che uno non sta correndo per sfuggire da quell'altro però mi sono sembrati che stessero potenzialmente in coppia ma vediamo se siamo fortunati di trovare qualcosa perché ovviamente non è già iniziare le armi e poi sbaglio sempre entra oh ce l'ha sta porta che cazzo sta allora tanta un'idea tuta a giacca a me serve questa me la prendiamo patente fegata è sempre buono non vi posso manco fermar a mangiarli perché se questi arrivano qui stavano a fare l'altra zona però se si mettono a favore quest'altro lato poi è un casino per me questo casco te fa sta sta visuale ovviamente oddio questa è una zombie non avevo manco visto ma fa sta visuale un po' più stretta ma soprattutto anche un po' più buia perché sicuramente via della visiera insomma va a simulare la questione però me la voglio tenere come protezione è quasi quasi intanto che andiamo se mangiamo sta pera no 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 non tira nessuno zombie a parte che oddio poteva essere pure uno zombie però in verità ecco mi ha visto ma sa no perché era uno con la stessa cosetta rossa di quei zombie che ci stava a guardare oh non lo so o era un player che era rincorso da uno zombie ma mi sembrava strano il loro movimento ecco oh questo ce lo pigliamo a sto forcone oh hai brutto c'è prima questo per meno a qualcuno via 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 e i colpi si sono sentiti all'inizio insomma quindi qualcuno ha già trovato eventualmente qualcosa occhio perché potrebbe probabilmente essere a parte che il forcone in uno spazio stretto non è proprio il top sto maione qua niente qua niente niente cerchiamo di vedere come la situazione è qua ma zombie queste le spalle con sta cosa rossa ah sì è un pompiere praticamente quello è il cappello cazzo è cappello da pompiere ma so magari mi sono sbagliato eh facile oh non lo so potrebbe essere stato ucciso da qualcuno quello non lo so allora ovviamente la pera non ci ha saziato un bel niente va tutto chiuso qua troppo chiuso vabbè io faccio la capuccella come se ce l'avessi oh questi sono buoni bastoncini salati ma abbiamo preso pure dei colpi sono del fucile però purtroppo del fucile non ce l'abbiamo quindi qualsiasi tipo di arma ovviamente troviamo beh prendiamo tutto non facciamo i schizzignosi perché comunque è un'arma che non che non è buona all'inizio tutto fa provato ok l'accetta mi piace molto di più del del coso qualcuno sta venite qua o il vento il vento mi ecco in attesa sembra che c'è qualcuno che si muove nei cispugli quindi fa un rumore assurdo vabbè noi continuiamo l'esplorazione qui comunque stiamo vicino alla zona portuale che vedo le le gru detto sto casco che già sapete poco di suo sto gioco questo casco a visiera oscura è pure peggio voglio controllo un attimo quale situazione vorrei che contro qualcuno gli spari sono finiti quindi o ha finito i corpi o è stato ammazzato oppure non c'è più necessità ovviamente giochiamo sulla accetta e dobbiamo cercare di fare il massimo probabilmente andiamo così sgargianti spavaldi perché tanto stiamo comunque ancora all'inizio insomma anche se ci dovessero ammazzare persienza allora i schiarponi forse lo so pure no cazzo scambi parcatrata cazzo sta maffa ok fa un casino fa un casino questo scherpi allora qua c'è niente e lì c'è la cosa delle barche però insomma non dovrebbe esserci niente qui è la serra nulla e proseguiamo in questo caso lo do a questo casco raga la zona del porto potrebbe essere interessante fatemelo togliere perché non si vede ah ok madonna si ci avrebbe potuto protegge però ripeto già faccio fatica io a vedere le persone così a cavi siera scure con la visuale più stretta è in casino intanto cerchiamo di non farci vedere la cosa che stava là ah cazzo la cosa ci andiamo proprio davanti sta anche a tramontare dobbiamo trovare un posto dove rimanere due zombie uno addirittura con uno zaino quello non sarebbe male il problema è che sta vicino a quell'altro se riuscissimo ad isolarlo oppure quello se ne va un po' per fatti sua potremmo provare eventualmente ad ammazzarlo patate un attimo devo mangiare no cazzo dove è finito i stecchietti no a volte che non li ho presi ma dai perché mannaccio la misera non ho preso i stecchietti dei cosi ero convinto di averli presi donnazione ero convintissimo di averli presi guardate se questa che corre non ce la trova vabbè infatti noi ci abbiamo stoppato di pollo qua però insomma non è proprio il top è finito quello con lo zaino con la anche quella sta un po' lontana vediamo se riusciamo ad approfittarne ma anche quella non sta a fare un giro tondo questi qua magari da solo lo riusciamo ad ammazzare forse è un po' accetta ok ottimo ottimo zaino possiamo prendercelo e via zaino preso e via era quella che giro inserla però sta là giù ok via ottimo ottimo così perlomeno uno zainetto ce lo siamo recuperati ah ma credo che fossero fossero zombie in verità perché ne so tanti che che coricchiano quasi quasi ma riempirei su qua a scala però visto per evitare i zombie qua perché hanno visto un altro con la camicetta rossa e qua che camminavano e correvano quindi se vede che ce ne so magari erano due che stavano forse correndo di ora qualcuno però non necessariamente quello doveva essere un player ecco allora visto che appunto sta tramontando direi che possiamo iniziare anche a cercarci un punto dove dove passare la notte qui questa è la cittadina portuale qua devo prestare un po' attenzione non abbiamo ancora armi sicuramente scoperti e vulnerabili soprattutto chiudi qua allora questi dovrebbero essere degli appartamenti se non ricordo male va bene cioè ma accetta capirei se ci dice bene magari siamo fortunati è un altro casco no però e poi se c'è qualcuno che player qualcosa no che servirebbe da mangiare da bere soprattutto da mangiare niente proprio da bere se siamo fortunati dovrebbe esserci una pantanella da ste parti tipo allora aspettate un attimo cerchiamo di girarceli un po' tutti questi malgrado insomma qui lo spazio sia abbastanza abbastanza ampio allora questi sono i jeans e pantaloni del compito questo è danneggiato e questo è molto danneggiato quindi se possiamo possiamo prenderci questi per quanto ma che c'è ma niente questo non c'è altri piani va bene ma cazzo che ci ha visto aspettate prima di andare là in piazza controlliamo un attimo qua se riusciamo a trovare qualcosa di buono niente tutti i primi piani sono chiusi qua dove andavo e faccio le cose qua sopra scarpe da sera no questo è giacca del comprare da donna era di no però aspetta più che lasciarcelo facciamoci degli stracci ma che non ce l'abbiamo dovessero servirci per per bendarci cioè prima le bende però insomma magari cazzarola pure molto danneggiato però degli stracci non fanno non fanno mai male e vabbè qua so sempre chiusi dagli questa che c'è stassi qui vediamo qua allora questi appartamenti chiudi chiudi ok mamma mia giusto on tap per fortuna è andata oh chi ha li è andata oltre se no vabbè che c'avevamo l'acceletta però è meglio evitare dei combatti anche se adesso ovviamente se c'è qualcuno sentito zombie che si lamentava e sa dove siamo c'è anche oh le patatine le patatine dove erano ah stanno usare la serie ok prese queste sono buone vediamo le megniamo le no come i stecchietti di di prima che mi era sembrato di averle presi in verità però a quanto pare no perché non ce l'ho inventario quindi forse forse l'ho presi lo pensavo di averlo fatto non lo so ma qui mi sembra abbastanza tutto tranquillo in verità ci serve un'arma da fuori come sempre ovviamente quindi dobbiamo dobbiamo vedere se riusciamo a trovarla più che altro io qua non credo che ci sia questa è comunque una zona industriale ci fosse non ne so pompieri o polizia non credo però volevo comunque passare verso la ma che cazzo proprio l'asta quindi volevo passare per il per la piazza lì perché a parte c'era un negozio e potrebbe esserci lì la fontana mi pare da averla vista la verità però se ci dice bene magari o qua c'è un retro bottega però non ce ne sono brava signori la zombie che c'è che c'è brutte poi usciamo qui da questa porta allora qui sono sempre tutti chiusi ah no sono diversi questi cortello ce lo prendiamo per ora ok vogliamo sapere la situazione volevo andare a vedere quel chieschetto là magari c'è qualcosa di cibo essendo comunque un negozio magari ci dice bene non c'è assolutamente niente qua e niente dai vediamo si prosegue certo che i creatori del gioco sono proprio stronzi lasciatemi lasciatemi lo dire cioè mi fai spawn a manco con tutte le cose piene dannazione cioè mi fai spawn all'inizio del gioco che già sto ampicciato mamma mia vabbè scarpetto non ci serve vabbè comunque mi hai recuperato qualcosa da mangiare che non è male questa era una fontana ma c'è l'acqua ma io non me fido non me fido non so se effettivamente può essere potabile o meno quindi credo che sia la stessa situazione dell'acqua che trovi ancora qualcuno che ci segue che trovi nei vari pozzi eccetera quindi meglio dire una cosa questa è proprio la fontana fontana classica che tu vai lì e bing insomma c'era l'acqua ripeto però non non mi sono affidato questa che è c'è qualcosa un caricatore vabbè noi chiappiamo tutto vediamo su che c'è pantaloni no jeans niente niente tutto tutto molto tutto molto tranquillo purtroppo non ho non ho il nome della città anche se insomma non dovrebbe essere difficile capire che palle questa capire qual è perché comunque sia è una di quelle che c'ha le questa c'è sta venì dietro una di quelle che c'ha insomma le cose per il per il porto quindi dovrebbe essere abbastanza semplice poi solo la mappa capire qual è chiudi qua sarà una una lampadina cazzo faccio niente io non voglio ammazzare sto zombie ma so so sblocchiato ma poi se riusciamo a scappare che troia vai vai chiudi oh questo ci piace c'è pure i corpi dentro so i stessi che montiamo noi no mi sa di no e io vi metto oppure no ma non so eh ma credo di sì però che monta questo calibro 12 questo si sa calibro 12 si so che ne monta uno per volta quindi è un casino però meglio di niente questa è una lampada a gas addirittura mi sa che è la prima volta che ne vedo una ho sempre visto i fornelli i cosi però la lampada proprio a gas non so che non ho mai trovata sembra strano però mi sa che è proprio proprio così va bene c'è un fucile un po' così a corpo singolo che non è proprio il top se ne devi sparare più di uno insieme praticamente sei morto e questi sono usurati così faccio di questi però questi sono antipioggia aspetta aspetta cambiamoli ah ma la giacca pensavo fossero pantaloni no niente la giacca se la prendiamo la giacca si la maglietta invece volendo possiamo farci gli stracci pensavo fossero pantaloni invece no la giacca antipioggia ce la prendiamo e come assolutamente e con la magliettina nostra ci facciamo gli stracci che so perlomeno un po' più puliti di quelle che di quelli che abbiamo questo è un caricatore abbiamo pure le altre eventualmente le altre munizioni allora c'è il container militare che un lato è chiuso però potrebbe essere interessante sui container c'è sempre la la fortuna messa che siano apribili ovviamente di trovare qualcosa di utile ma a noi ci ha detto proprio sfiga su Ciro o là ce ne stanno altri vediamo un po' ce ne sono diversi in verità però appunto bisogna vedere se si aprono se si aprono potremmo trovare qualcosa di utile se siamo anche fortunati ci sono troppi in questa frase no perché sono tutti sono tutti chiusi questi sono quelli che non si aprono da nazione pure quello è chiuso ah mi scusi cazzarola sto a morire dissetato praticamente devo devo avere qualcosa assolutamente un'azione possibile che non c'è una cavolo di dei fontanella qua vediamo un po' se siamo fortunati qua o un zaino così per terra la 42 o stesso che c'è ma noi sa fosse più grande o un altro ma che è facciamo lo spazio dei zaini da 42 qua per terra ma niente ecco un sacchiotto stranissimo sta cosa qua non so di qualcuno che li ha che li ha lasciati qui beh è possibile siamo così sfigati che non troviamo niente da bere non ho manco trovato la la fontana ammessa che ci fosse stanche ecco chiodi fiammiferi colpi però mi serviva qualcosa da bere dai non mi fate morire dei sete però dannazione e niente e faremo una brutta fine raga qui sono macchinari vediamo un po' qua classica società di macchinari però più che altro mi serve la parte ok qua alcune sono aperte per più la parte diciamo qui amministrativa che può esserci qualcosa di interessante forse c'è un cacchio di niente interessante mi pare che non c'è un secondo piano così sì vabbè non c'è niente uguale ho solo perso tempo la nazione e niente raga qua come sempre le cose si fanno molto molto critiche vediamo un po' se con queste patatine qualche cosa di salute a parte che le patatine deve mettere ancora più sede ma c'è un zombie niente devo andare più nella zona residenziale dai è possibile che non avete concepito una fontana da queste da queste parti possibile sta però albeggiando a parte che va bene col fatto che c'è ma sed al minimo non ci aiuta come visuale ovviamente sta calando anche per quella ragione poi c'è uno con un mega zaino no zaino come quello mio mi servirebbe qualche cosa da bere niente maglione annacione serio ma sta piovo che sentivo come dei passi non ho capito sentivo come se ci fossero tipo dei passi non lo so vabbè questi sono i zombie pure sopra i detti dannazione fortuna non mi hanno visto sarà perché è un po' buio niente il rastrello qua niente questa è l'unica l'ultima chance che perché sta facendo buio dannazione è il pio motto c'ha 30 slot non è male però e sta cosa qua che che è è tipo che c'è ma con la secca c'è ma la bocca secca quindi è un testo rumore particolare è stata che nessuno di questi zombie mi abbia visto però cioè c'era addirittura uno pure sulla sulla sul tetto buonissima e c'è difficoltà a vedere dove caspita stava andando una cartella ho dei pantaloni oh fucile che è si è un bk18 questo è un bk12 però questo c'è i 762 e 39 chi ce l'ha per ora no non so questi e niente e vabbè niente raga qui iniziamo ad avere veramente difficoltà a vedere dove sto andando il solito problema della notte controlliamo se è quest'ultima casa raga e se poi morimo morimo mi spiace ma ma sempre il solito problema iniziale è trovare da bere e qua c'è un cacchio di niente perché trovo tanzi di niente cioè magari posso pure passare vicino una fontana ma la vedo troppo buio dannazione possibile che nella zona centrale non c'è una fontana su sto paese aspetta fammi c'entrà però prima di chiuderla ok e niente speranzoso di trovare qualcosa non un cappello ma qualcosa da bere e niente c'è proprio niente e vabbè raga direi che ci possiamo salutare qui veramente inizio a non vedere assolutamente nulla sperando di sopravvivere finché non troviamo qualcosa da bere io come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao